Ci colleghiamo subito con Antonella e Lia! Allora ragazze, ci siamo, però prima devo fare una domanda alla signora Mariella. Ecco. Cosa ne pensa del mio look? Vai Mariella, spara Mariella. Antonella tu puoi permetterti tutto. Oh! Grazie! Però Antonella, al di là della tua bellezza, della tua eleganza, del tuo vestito, vogliamo parlare un po' del Festival di Sanremo, già che sei lì? Ovviamente! Grazie! Infatti adesso io vi manderei un filmato con tutti i miei assalti notturni ai cantanti! Poveracci, poveracci! Brava! Per un'intervistatrice d'assalto come me, ci vuole un mezzo di trasporto eccezionale, il trenino rosa di Vera Love Skincare, abbinato perfettamente al fucsia della mia pelliccia ecologica. Che bella Sanremo! Il vero cuore del Festival è la Porta Carraia e io sono qui, pronta ad iniziare l'assalto ai cantanti. È vuota! E ciao! Ti amo! Anch'io! Sei bellissimo! Ma come tu, ti amo un po' tutti! Ma in particolare? Amo tutti! In particolare chi ami? Questa gravata! No! Bellissima! Davvero! Ma stupenda! Tutta bellicciata, poi rosa, anche bella! Ecologica! Ovviamente, senti che bello! Se vuoi ci scambiamo i numeri e te la faccio avere! Dopo mi dai il tuo numero allora, l'hai detto qua davanti alle telecamere! Qual è la forma d'amore che tu preferisci? Quella fisica! Cioè, il sesso! Beh, anche una carezza è fisica! Perché pensi sempre al sesso? Sei tu che ci hai pensato! No, no! Perché io sono l'inviata dell'amore! Siccome tu sei... Anche io! No, davvero! Anche io sono l'inviato dell'amore! Ma è vero che vi sposate? Sì! Guarda! Mi piace! No, bellissimo! Sei bravissima! Io non vi vorrei stressare! Vi sto stressando! No! L'amore è solo di chi lo prova e non è di chi lo riceve! Chi resta dentro... E ti riempie! Soltanto nel momento in cui lo provi, non nel momento in cui lo ricevi e basta! Viva l'amore! Siate monogami! Tutta la vita! Il vostro pezzo? È una canzone che parla appunto di godersi i momenti liberi al massimo! Perché spesso siamo berati da lavoro e ci perdiamo la vita! Anna, ti prego! Non mi prego! Dimmi una parola! Anna, so che sei vegana! Io ho tentato di diventare vegana! Ti prego! Senza nessun successo! Ti prego! No! Eh, ci provocaci! Ma vivi nella natura! Cerca di capire perché non sei riuscita! Perché c'ho la colite! I fagioli mi fanno male! Mi gonfiano! Questa volta che cosa canti? L'amore? Il dopo! Come liberarsi, no? Di un pezzo della propria vita che è vissuto, che si è compiuto e che va lasciato! Sei così affascinante! Oddio! Mi commuove sentirti parlare, te lo giuro! È come stare di fronte a una divinità per me! Ma cosa dici? Te lo giuro! Dornite nella stessa stanza? No, col cavolo! No, col cane! Perché chiaro non c'è il cane! Sì, ho portato il mio cagnolino! Che ti tranquillino! Amore, sì! È il mio antistress! Ma non puoi andar via da me! Ma tu chi sei? Tu chi sei? Ma tu sei trendy! Trendy! Lui è trendy! Lui è trendy! Sono un po' la squadra dei trendy! Tu siete trendy! Mazza, questo è benissimo! Abbiamo fatto trendy, facciamo trend1! Pure su Stato! Zaccari! Ma tu lo sei! Noi come possiamo competere! No, ma senti che bocione! Tu sei la voce! Che cosa! Che cosa! Che cosa! Che cosa!